è decisamente una delle 911 più emozionanti da guidare ed è per questo che oggi ha quotazioni elevatissime sul mercato amatoriale è la 911 Carrera RS della serie 964 fantastica era una versione alleggerita per partecipare anche alle gare di club senza molto impegno ed è la derivata dalla versione club sport ha un motore 3.6 da 260 cavalli che la spinge oltre 260 all'ora ma non è questo è l'emozione di guida all'interno arriva sedili sportivi cofano in alluminio vetri più sottili eliminazione di servo sterzo delle maniglie delle porte e dei sedili posteriori per raggiungere un peso di 1280 kg contro i 1350 della versione di serie bellissimi cerchi che hanno fatto storia questa versione ha le prese d'aria della versione cup ed è stata messa a punto in modo particolarmente perfetto da domenico bellini nella sua officina di fasano in provincia di brindisi è uno specialista molto apprezzato in tutta Italia ed è con lui che vogliamo la vettura che dire l'auto è molto nervosa molto impegnativa rispetto alle vetture di oggi ma forse ancora più emozionante rispetto al GT3 di oggi che si guida molto facilmente questa è dura e pura ed ha emozioni di guida pazzesche pazzesche e anche le prestazioni che si raggiungono non sono niente male che sia facile stare davanti neanche con una Porsche Moderna e via a sognare